I comuni di Son Gavazzo e Rovetta hanno deciso di affidare uno studio con il quale comprendere meglio lo stato di salute del ponte. Il nostro ponte è detto di Son Gavazzo perché è di proprietà di Son Gavazzo, però è posizionato per la massima parte sul territorio di Rovetta. È un ponte storicamente importantissimo dal nostro punto di vista emotivo, perché ci teniamo, perché è proprio nostro, ma soprattutto anche dal punto di vista ingegneristico, perché è considerata una delle massime opere mondiali di ingegneria di questo tipo. E quindi è da tanto tempo che a noi interessava valorizzarlo. Nel frattempo, come tutti sanno, è accaduto il tragico episodio a Genova e tutti gli amministratori che hanno dei ponti si sono mobilitati per verificarne più celermente lo stato di fatto, per capire effettivamente i ponti italiani come sono messi. E quindi l'abbiamo fatto anche noi e abbiamo però avuto la fortuna di recepire un contributo cospicuo per lo studio, supera i 40.000 euro, che è quello che oggi abbiamo appunto presentato ai cittadini attraverso la stampa, perché questo studio ci deve dire a che punto è il ponte che ha già 111 anni, ma non li dimostra. Per fortuna sono stati bravi quelli che l'hanno costruito e progettato, e per capire come poter regalare a questa struttura altrettanti anni, se non di più, per renderlo sempre presente, per fare in modo che rimanga ancora su, insomma, in poche parole. A questo finanziamento per la progettazione seguirà un altro finanziamento già assegnato per opere che serviranno appunto al mantenimento della struttura. Quindi adesso facciamo il progetto e poi interverremo anche sulla struttura per valorizzarne, per dare più stabilità alla struttura stessa. Siamo molto ottimisti, però io ringrazio anche doverosamente il Comune di Rovetta, che fa da capofila di questo transito economico di finanziamento. Quindi è il Comune di Rovetta che gestirà le procedure per seguire sta cosa. Ma per fortuna c'è armonia su questo argomento e quindi sono molto ottimista a che porteremo a casa una grande opera che continuerà a valorizzare il famoso ponte di Son Gavazzo del Cortese.